I comitati Ambiente Futuro Lombardia e Comitato Cittadini Calcinato, insieme ad altri residenti bresciani, si sono riuniti davanti a una delle sedi della ditta VTE, colpevole di aver sversato 150.000 tonnellate di fanghi tossici nella pianura padana, per chiedere di portare avanti le indagini e di fare chiarezza sulle responsabilità dei funzionari pubblici coinvolti nell'indagine. La VTE, azienda di recupero rifiuti, è stata sottoposta a sequestro, con l'accusa di aver inquinato 3.000 ettari di terreno in tutto il nord Italia. Da 20 anni i cittadini dei comuni bresciani, che ospitano le sedi dell'azienda, hanno combattuto senza il supporto delle amministrazioni e spesso anche delle autorità e senza aiuti economici. È dalle loro segnalazioni che è partita l'indagine dei carabinieri forestali del gruppo di Brescia. Possiamo definirla una vittoria, ma una sconfitta, nel senso che tutto quello che i cittadini andavano dicendo da anni, purtroppo si è rivelato verità. Abbiamo subito molte denunce in questi anni, se ne siamo sempre usciti perché era la verità. Chissà cosa abbiamo mangiato. Con i venti della VTE, numerose attività agricole, da Sospiro a Castelleone, da Gussola a Piadena, da Persico, Dosimo a Formigara nel Cremonese, da Orzinuovi a Manervio, da Pontevico a Verola Nuova nel Bresciano, ma anche nel Mantovano e nel Piacentino, che accettavano i fanghi forniti dall'azienda, la quale si offriva di lavorare il terreno personalmente consapevole della scarsa qualità e forse anche degli acidi aggiunti ulteriormente inquinanti. 5.000 camion carichi di finti gesti di defecazione non trattati che sfilavano sotto le case dei cittadini, insieme a loro disturbare la quiete, odori insostenibili. Addirittura andavamo a letto la sera con la paura di essere gasati nel sonno. spesso appunto non era possibile tenere le finestre aperte neanche d'estate. Avevamo fiducia ecco nella legge, nel controlli che facevano, invece dopo a un certo punto mio marito si è ammalato, io mi sono ammalata, abbiamo avuto problemi anche con i nostri cani, tanti malati, tanti cani malati. Passavano più di 100 trattori al giorno, effettivamente noi abbiamo i video, abbiamo i mail scritte ai vigili. Malattie e inquinamento dell'aria e della falda sono alcune delle caratteristiche della zona di Montichiari, già conosciuta come terra dei fuochi del nord Italia. Questo potrebbe diventare l'inizio di un cambiamento radicale per la pianura padana, ormai in una conca di inquinamento e di rifiuti tossici. Una situazione che senza dubbio necessiterebbe dell'attenzione dei primi cittadini dei paesi inquinati. Certe decisioni non spettavano solo all'ente comunale ma anche altri enti. Ovviamente come si sono mossi i cittadini, anche il comune, se si muoveva con più, se si fosse mosso con più incisione penso che ci sarebbe stato un altro risultato e forse anche prima. Restano tanti i quesiti a cui le istituzioni dovranno rispondere, dal sequestro e la bonifica dei terreni inquinati alla necessità di uno studio approfondito sui prodotti coltivati nelle aree contaminate, lavorati, acquistati e pronti sulla nostra tavola. Noi siamo quello che mangiamo, quindi attenzione non solo ai terreni contaminati perché poi questi contaminati ce li ritroviamo all'interno dell'intera filiera agroalimentare.